Ciao ragazzi, oggi vogliamo dedicare questo video a un nostro caro amico che è da tanto che non lo vediamo. E noi vorremmo dedicargli una canzone per indurlo a tornare il più presto possibile. Nella speranza che torni da noi. È un appello, è un appello all'anticiclone delle Azzorri. Siete pronti? O è il nostro ukulele, l'abbiamo chiesto in prestito a padre Roelio Andreito e quindi li cantiamo la canzone. Torna, anticiclone delle Azzorri, torna, torna qui da noi dai, torna, anticiclone delle Azzorri, se torni noi resteremo sempre con te. E li dedichiamo anche la canzone dei McStreet Boys. È da piangere, vai, vai, vai. Lo sai che non puoi lasciarci così. Anticiclone delle Azzorri, torna da noi, ti preghiamo. L'abbiamo fatto l'appello anche a chi l'ha visto. Non ci piace l'anticiclone africano, ci fa schifo e noi vogliamo solo te, noi ti vogliamo troppo bene. È una bella compagnia, la tua invece è bellissima. Bella, quelle belle estati con la brezza che veniva dal mare, ci faceva stare bene anche quando erano belle giornate, l'alta pressione. Allora non ci faceva paura, quindi anticiclone della Azzorri, torna presto.